L'ormone della crescita, il GH, viene prevalentemente utilizzato come sostitutivo nei casi di un deficit congenito dell'ormone ipofisario. Si tratta di una terapia che serve a normalizzare, a incrementare la velocità di crescita della statura ed è quindi fondamentale per i bambini che soffrono appunto di un deficit della crescita. Purtroppo, a causa dell'esigenza di contenimento dei costi, a volte i medici che prescrivono gli ormoni della crescita sono costretti a sostituire all'improvviso la terapia anche se funziona. I pazienti a loro volta sono costretti a subire un cambio repentino della loro terapia con grandissimi disagi sia sul paziente sia ovviamente sulle famiglie. Una situazione che genera tra l'altro anche delle forti disimogenità assistenziali nelle regioni perché in ognuna c'è una situazione diversa. Situazione sicuramente ingiusta che appunto causa tanti disagi. Oggi ne parliamo insieme alla professoressa Maria Carolina Salerno, presidente della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica e con la dottoressa Cinzia Sacchetti, presidente di AFADOC, l'associazione famiglie di soggetti con deficit di crescita ed altre patologie. Benvenuti a Medica TV. Parto subito con una domanda per la professoressa Salerno. Allora professoressa ci spiega intanto in quali casi si prescrive l'ormone della crescita, cioè quando serve e se è possibile anche quanti sono i bambini che in Italia soffrono di deficit della crescita. Allora buongiorno a tutti, grazie dell'invito a partecipare. Allora per quanto riguarda l'ormone della crescita è un ormone che in età pediatrica serve a crescere come dice la parola stessa. Quindi si prescrive a tutti quei bambini di severa bassa statura che hanno una carenza dell'ormone della crescita. Però questo ormone può essere somministrato anche ad altri pazienti. La sua somministrazione è regolamentata dalla nota 39 dell'Agenzia italiana del farmaco e può essere prescritto anche ad altri pazienti che non hanno la carenza dell'ormone ma che da studi scientifici si è visto rispondere molto bene a questa terapia e migliorare la loro severa bassa statura. E quindi parliamo di bambine con la sindrome di Turner oppure bambini con la sindrome di Nunan, bambini nati piccoli per l'età gestazionale che poi non hanno recuperato la loro crescita, la loro statura nei primi anni di vita. Parliamo ancora di bambini col difetto del gene shocks. Sono tutte condizioni che si associano a una severa bassa statura. Anche i pazienti con insufficienza renale molte volte questa condizione dà una bassa statura e possono aggiovarsi di questa terapia. E voglio ricordare anche i pazienti con la sindrome di Prader-Willi che sono dei pazienti con un'obesità genetica molto severa che hanno anche deficit tipo fisari in cui l'ormone della crescita non solo gli aiuta a crescere ma esplica su di loro una serie di effetti metabolici positivi e quindi li aiuta in tante attività. Per quanto riguarda la numerosità diciamo che in Italia non abbiamo un registro da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e si può stimare orientativamente che attualmente siano in terapia con GH all'incirca tra i 4 e i 5 mila bambini. Ok. Senta ma come viene poi di fatto somministrato? Perché la parola ormone della crescita dobbiamo pensare a una non credo ad una ad una pillola a una iniezione da fare cioè come si somministra e per quanto tempo? Allora eh come si somministra è eh un'iniezione sottocutanea tipo quella dell'insulina che viene fatta tutte le sere prima di andare a dormire per mimare la fisiologica secrezione dell'ormone della crescita che è prevalentemente notturno e in genere si somministra sei o sette giorni alla settimana. La durata lo dobbiamo dire subito perché molte volte i genitori si aspettano una cosa eh di tempo limitato invece la durata della terapia è di anni quindi quando si comincia questo percorso è un percorso lungo e la durata è estremamente variabile perché ovviamente dipende dal momento in cui noi iniziamo la terapia. Prima la iniziamo migliore sarà l'efficacia della terapia ma proprio perché sarà di più lunga durata e in genere si prosegue questa terapia fino al raggiungimento della statura adulta. Se il farmaco efficace, se il farmaco non efficace ovviamente poi il medico valuterà insieme alla famiglia se vale la pena di interromperlo prima del raggiungimento dell'altezza adulta. Certo quindi diciamo è fondamentale proprio l'aderenza possiamo dire la terapia. Eh dottoressa Sacchetti veniamo. Se mi posso permettere è fondamentale anche una diagnosi precoce di queste severe e bassa stature. Sono sicura che la dottoressa Sacchetti ehm sia d'accordo con me perché molte volte sfuggono e come ho detto prima quanto più è precoce la diagnosi qualunque sia la causa eh quindi deficit di GH piuttosto che sindrome di Turner o sindrome di Nuna o quant'altro tanto prima facciamo la diagnosi tanto migliore sarà l'efficacia del farmaco e la soddisfazione del paziente e dei genitori. Assolutamente. Oh veniamo al problema diciamo nodale per cui insomma vi ho invitato in trasmissione. Dottoressa Sacchetti il problema è che a volte i medici dovendo purtroppo sottostare all'esigenza del contenimento dei costi eh sono diciamo possiamo dire costretti a cambiare eh a modificare la terapia di questi pazienti. Perché questo succede e che disagi provoca ai pazienti? Allora prevenso che il piano terapeutico può venire cambiato per esigenze magari particolari del paziente stesso. Però quando invece il medico cambia la terapia in atto che si sta dimostrando efficace, sicura, che sta dando anche buoni risultati, la motivazione va ricercata altrove e questo il più delle volte avviene proprio a seguito di gare di acquisto regionali e quindi a seguito di indicazioni dirette da parte dei decisori politici delle regioni. E il disagio che si crea naturalmente è un disagio anche doppio perché riguarda sia il paziente che la sua famiglia perché il paziente eh ricordiamo sempre nella maggior parte dei casi è un bambino o un adolescente. Quindi i genitori devono imparare ad usare un nuovo dispositivo e soprattutto devono farlo accettare al bambino. Già è riluttante verso quello in uso perché si tratta appunto di un'iniezione quindi non è eh così semplice fare accettare al bambino questo tipo di terapia. E poi il bambino che magari ha paura del cambiamento quindi ha paura di sentire di più male con questo nuovo dispositivo per cui i genitori si ritrovano ad affrontare tutte le dinamiche di rifiuto e quindi poi di accettazione come all'inizio della terapia. No volevo chiederle una cosa poi le lascio continuare cioè dal punto di vista quindi pratico no che cosa succede che eh c'è un piano terapeutico che si sta seguendo alla scadenza perché questi i piani scadono no alla scadenza o anche prima della scadenza può arrivare un nuovo piano terapeutico con un nuovo farmaco con un farmaco diverso? Allora può succedere questo ma può succedere anche che il piano terapeutico sia lo stesso quindi con la stessa prescrizione e al momento appunto della eh dell'acquisto diciamo in farmacia ci si ritrova invece eh a dover modificare il piano terapeutico che magari non è neanche stato modificato dal medico no? E quindi c'è questa questa situazione un po' strana diciamo per cui il medico deve spiegare le motivazioni e eh motivazioni che a volte dà la il farmacista stesso no? Che il farmaco non è più in produzione e si deve cambiare farmaco. Quindi insomma un bel disastro direi no? Per per questi ragazzi pesanti. Esatto e soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti come stavo dicendo e cosa succede? Che magari rifiutano di continuare la terapia oppure che la fanno a donne alterni o quando ne hanno voglia visto che a quell'età sono loro a gestire anche la somministrazione del farmaco e tutto questo naturalmente eh genera una mancanza di anerenza che va a discapito poi dell'efficacia del risultato finale della terapia. Assolutamente. Ecco professoressa Salerno, l'autoressa Sacchetti lo ha accennato prima no? Eh oltre ai farmaci ci sono i device, gli strumenti che si utilizzano per la somministrazione del del farmaco. Quindi se cambia la la terapia cambia anche questo strumento, il device e chiaramente eh l'utilizzo immagino che richieda un minimo di di dimestichezza. Esatto esatto è qualcosa che spesso i decisori si dimenticano di eh rilevare perché ogni farmaco ha un device specifico quindi i pazienti fanno un corso, i pazienti o le loro famiglie vengono educati all'utilizzo di quel device ma soprattutto mi preme sottolineare come la l'approccio migliore eh sia quello di condividere con la famiglia o con il paziente il device da scegliere perché come accennava la dottoressa Sacchetti il nostro obiettivo è fare in modo che i pazienti facciano correttamente la terapia e che l'aderenza sia massima quindi noi dobbiamo trovare se sono i genitori a somministrare il farmaco un device che incontri ehm la il come dire il consenso delle famiglie perché non tutte le famiglie sono in grado di utilizzare dei device complessi quindi noi abbiamo una vasta gamma di device e dobbiamo con la famiglia scegliere quello che è più adeguato per le loro esigenze. Se invece un adolescente che somministra la la terapia in autonomia dobbiamo scegliere un device insieme all'adolescente o al bambino eh perché molte volte ci sono anche dei bambini più piccoli che sono in grado di eh autogestire la loro terapia ma è fondamentale che il bambino scelga un device che in qualche modo eh lo rallegra in questo ehm percorso terapeutico per cui molte volte c'è chi sceglie un certo tipo di penna un po' più colorata c'è chi sceglie invece un device a forma di computerino perché eh è qualcosa che può anche condividere con gli amici e quindi non nascondere la terapia. Ovviamente eh il cambio terapeutico significa cambiare device e quando noi abbiamo fatto un lavoro di ehm scelta comune condivisa o con il paziente o con la famiglia questo cambio significa rincominciare tutto da capo e mettere in discussione tutto quello che abbiamo raggiunto fino a quel momento e poi voglio segnalare anche un'altra cosa che non solo è importante il device ma molte volte anche il farmaco stesso perché il farmaco va conservato in frigo e altri farmaci possono rimanere invece fuori dal frigo allora se abbiamo dei bambini che fanno un'intensa attività sportiva agonistica che fanno trasferte che non hanno la possibilità di avere il frigo facilmente a portata di mano noi dobbiamo pensare anche a questo perché noi dobbiamo rendere semplice la vita di questi pazienti non la dobbiamo ulteriormente complicare. Quindi dovrebbe tutto questo dovrebbero essere delle decisioni diciamo in carico al medico che segue il bambino non in poste calate dall'alto. Beh quanto meno andrebbero delle decisioni che andrebbero condivise. Ecco. Ok ecco allora dottoressa Sacchetti proviamo a tentare di risolvere questo problema nel cambio di terapia la rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief ha chiamato a raccolta insieme alla vostra associazione AFADOC numerosi esponenti della comunità medico-scientifica anche istituzionali endocrinologi pediatri eccetera e arrivando alla pubblicazione di un manifesto sociale ci racconta un po' che cos'è il manifesto che richieste contiene? Allora guardi le richieste che sono contenute in questo manifesto sono delle richieste molto semplici e sono anche diciamo conseguenti l'una all'altra. Al primo posto abbiamo messo il diritto all'informazione che è essenziale per creare un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Come ha detto prima la professoressa Salerno sono terapie che durano a lucro nel tempo quindi è giusto che ci sia un buon rapporto tra medico e paziente e il medico deve informare adeguatamente il paziente e la sua famiglia proprio all'inizio della terapia e intraprendere tutto quello che comporta e quindi tanto più deve farlo per il cambio della terapia come dicevo prima soprattutto quando la terapia è già efficace e sicura. L'altra richiesta che abbiamo inserito è quella di fare attenzione alla cura più adeguata che deve essere personalizzata personalizzata per ogni paziente tenendo conto appunto anche delle diverse abitudini del paziente e anche delle preferenze della famiglia stessa. Poi promuovere l'aderenza terapeutica questo per ottenere la partecipazione attiva del paziente partecipazione attiva e consapevole anche della famiglia e questo è l'aspetto più importante per ottenere appunto il risultato migliore dalla terapia. Quindi promuovere l'aderenza terapeutica significa anche spiegare bene quali sono le modalità di somministrazione del farmaco e anche della sua conservazione. Può significare anche affiancare appunto la famiglia di un infermiere educatore che spieghi bene queste modalità e quando c'è la necessità significa anche magari dare un adeguato supporto psicologico al bambino a volte anche ai genitori. Non ricordo male dottoressa c'è anche la richiesta da parte delle associazioni di essere coinvolte nelle serie di gara di acquisto. Esatto abbiamo messo anche a questo punto infatti in questo manifesto auspicabile appunto la partecipazione delle associazioni in questo caso della nostra eventualmente ai tavoli regionali dove si decidono appunto gli acquisti dei farmaci sempre per tutelare quel diritto dei pazienti alla cura personalizzata quindi tenendo conto sì degli aspetti economici ma non certamente solo di quelli. E questo manifesto andrà presentato cioè viene diciamo rappresenta un po' una base di richiesta da cui partire. Esatto questo manifesto che verrà presentato domani no? E poi come ultimo punto abbiamo messo anche che è altrettanto auspicabile un coordinamento tra i diversi servizi sanitari regionali proprio per eliminare anche quelle disomogeneità che esistono ancora tra regione e regione e che a volte possono creare anche della mobilità sanitaria da parte delle famiglie che è completamente inutile. Ecco questi sono diciamo i punti fondamentali. Ok io avrei tantissime altre domande ma dobbiamo chiudere. Un flash ancora per la professoressa Salerno. Effettivamente esiste il problema della sostenibilità economica? Cioè c'è un problema di costi di questi farmaci che giustifica tra virgolette questi cambi terapeutici? Allora guardi eh è chiaro che noi abbiamo ehm due tipi di farmaci il il farmaco eh diciamo originator e poi abbiamo il biosimilare. Il biosimilare ha dei costi minori. Non posso non entro nel merito dell'efficacia perché un po' per arrivare per per dircela tutta un po' come i lati in polvere o liquidi diciamo ehm ce ne sono alcuni che i pediatri preferiscono ma complessivamente vanno tutti bene. È chiaro che come per i lati così si capisce subito non tutti i bambini vanno bene con lo stesso latte. C'è una certa differenza e di variabilità di palatabilità di risposta di intolleranza quindi ci sono varie variabilità e lo stesso io direi in modo un po' diverso può avvenire per il GH. È chiaro che il biosimilare ha un costo minore ehm ma ehm diciamo ehm questo ehm non deve a mio giudizio limitare la prescrivibilità degli altri farmaci che hanno magari caratteristiche lievemente diverse voglio dire la conservazione voglio dire il tipo di device per cui ci consentono di trovare il binomio migliore quando dico binomio dico ehm prodotto e device più adeguato alla famiglia quindi siccome noi medici dobbiamo fare salute è chiaro dobbiamo stare anche attenti alla spesa però voglio dire che la maggior parte di noi è anche attenta alla spesa perché quando noi eroghiamo un farmaco con un device cerchiamo anche di fare in modo da non sprecare il prodotto che abbiamo scelto quindi da dare delle dosi che consentano di utilizzare senza sprechi il prodotto e quindi un po' di economia la facciamo anche noi però io non penso che ehm diciamo il contenimento della spesa si debba fare sull'ormone della crescita che incide molto poco eh rispetto ad altri farmaci sul costo delle regioni esistono farmaci molto più costosi sui quali magari insomma bisognerebbe andare a valutare le differenze sono abbastanza contenute tant'è che in molte regioni non c'è un limite di prescrivibilità del farmaco ma si lascia ampio spazio ai medici fermo restando di dare un occhio anche a quella che è la parte economica quindi diciamo di prescrivere anche farmaci più economici laddove è possibile ma comunque lasciando una certa libertà prescrittiva quindi se lo fanno alcune regioni lo possono fare anche tutte. Mi sembra chiarissimo quindi insomma la chiave è la personalizzazione della della terapia dal resto si parla sempre più spesso di medicina personalizzata e quindi facciamolo anche in questo caso no? Mi sembra di certo. Ok bene io vi ringrazio eh le cose da dire sono ancora tante ma magari torneremo poi eh successivamente sull'argomento. Grazie intanto. Grazie buongiorno. Grazie a tutti buongiorno.